Previsioni del tempo per venerdì 11 dicembre su Puglia Basilicata e Molise. Situazione generale. L'alta pressione cederà nuovamente, lasciando spazio all'irruzione di correnti fredde provenienti dal nord-est. Questa determinerà annuvolamenti sparsi su quasi tutto il mezzogiorno italiano, che tenderanno ad intensificarsi nel corso della serata a partire dall'Adriatico. Piogge rovesci insisteranno seppur deboli dal pomeriggio su Molise orientale e versanti adriatico pugliese e non è escluso un possibile rafforzamento dei fenomeni nel corso della giornata. Temperature stabili o in lieve calo, specie nella nottata, venti moderate tra nord-ovest e nord-est, mari mossi. Vediamo ora le previsioni sulla Puglia. Una circolazione d'aria fredda e leggermente instabile di provenienza balcanica permarrà sulla regione. Saranno presenti, pertanto, condizioni di cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con la presenza di annuvolamenti localmente consistenti, che potrebbero originare piogge a carattere sparso e in particolare lungo la fascia settenzionale adriatica. Temperature stabili o in lieve calo, venti moderate tra nord-ovest e nord-est, mari mossi. Temperature stabili o in lieve calo.